Prepariamo insieme delle frittelle di zucchine. Iniziamo facendo scaldare dell'olio per friggere. Prepariamo una pastella mescolando, 2 uova, 50 g di latte, 20 g di formaggio grattugiato, un po' di sale e 130 g di farina. Tagliamo a fettine sottili, 300 g di zucchine, direttamente nella pastella e mescoliamo. Quando l'olio è ben caldo, a circa 170 gradi, possiamo friggere. Diamo forma alle frittelle utilizzando due cucchiai. Tuffiamole nell'olio. E lasciamole cuocere fino a doratura, girando di tanto in tanto. Scogliamo le soccarte assorbente e sono pronte! Sono buonissime, calde, ma anche fredde. Perfette come contorno oppure per arricchire un buffet o un aperitivo. Alla prossima! Grazie a tutti.